Ma certamente che c'è speranza, la mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Valermo è nostra e non di cosa nostra! Grazie a tutti! Non speriamo mai di avere vinto, non speriamo mai che il fiduciato sia raggiunto e sia definitivo. Questa è una ripartenza, si riparte, si ritroviamo, si vediamo, siamo in tanti e via, si continua a camminare. E di non dimenticarvi mai che la prima cosa da fare è guardare la vostra coscienza, guardare la vostra coscienza per diventare persone più responsabili. La thực è la vita! La inglese! La inglese! La inglese! La inglese! Grazie a tutti